Tutelare i commercianti affinché siano ridotti al minimo i disagi, soprattutto quelli dal punto di vista economico, derivanti dai lavori per il completamento della grande piazza che dal prossimo primo settembre interesseranno Corso Vittorio Emanuele. Questo è l'obiettivo principale delle associazioni datoriali che stamattina si sono incontrate a Palazzo del Carmine con il sindaco Giovanni Ruvolo. Un'occasione anche per parlare del futuro della grande piazza e del possibile rilancio del centro storico. Noi oggi l'organizzazione datoriale ha incontrato il sindaco per discutere in che maniera noi cosciamo questo salotto senza lasciare vittime sul campo, cioè senza nessuna impresa che chiude, perché noi dobbiamo capire che le imprese sono fondamentali, che la nostra struttura economica è che non ci possiamo permettere in questo momento di grande crisi di far fallire nessuno. Devo dire che c'è stata grande disponibilità da parte del sindaco e i lavori purtroppo inizieranno possibilmente, ancora non è sicuro perché penso che lui stia chiedendo anche delle garanzie all'impresa come è giusto fare, dovrebbero iniziare a settembre. Verranno fatti nel centro della strada quindi ampi marciapiedi a destra e a sinistra per evitare che gli imprenditori possano perdere clienti, ecco di questo ci stiamo preoccupando. Bisogna anche dire che la programmazione di questi lavori non la sta facendo certo Ruvolo, noi ci rendiamo conto di questo, che è qualcosa che era già stata prevista prima e purtroppo era stata prevista senza che le organizzazioni datoriali potessero dare un contributo a tutto questo, perché qualsiasi imprenditore che sa che in quella zona ci può essere un momento di crisi di clienti avrebbe acquistato meno eccetera. Abbiamo anche chiesto insieme a tutte le organizzazioni di fare un documento comune, le organizzazioni, il sindaco possibilmente investeremo anche la prefettura, a tutte le aziende fornitrici in modo che direzionano i pagamenti che le tratte poi vanno a scadere e su questo noi vorremmo che i commercianti avrebbero un attimo di respiro in più. Abbiamo anche chiesto la riapertura di Corso Umberto perché in questo momento così com'è non sta funzionando, ci sono persone, i barri lavorano pochissimo e dall'altra parte a Santa Lucia si lavora ancora di meno. La riapertura su questo c'è disponibilità, dobbiamo solo capire come farla. Un'idea potrebbe essere questa, gliela diremo quando ci rivediamo fra un paio di giorni per una riunione sulla Tasi, potrebbe essere quella di chiudere alle 16 per esempio per tutta la serata lasciando libera la mattinata e già le persone in mattinata potrebbero frequentare questi posti. Ragazzi poi le persone di mattina non ci sono in giro, per cui se congeliamo le due cose a piccole pillole penso che riusciremo a cambiare la mentalità di questa città per riappropriarci della nostra cultura e dei nostri centri storici. Grazie.